Il commerciante Gaetano Giordano La mafia giolese cacciando dai propri negozi, uno in piazza ed un altro nel quartiere caposoprano, i picciotti che gli chiedevano il pizzo. Il commerciante aveva presentato denuncia contro tre mafiosi del clan Gianni Cavallo, poi chiamati Seggiari. Il killer ucciso Giordano ma nei piani delle cosche quell'omicidio rappresentava anche una intimidazione rivolta a tutti i commercianti, colpirne uno per educarne cento. Da quel gravissimo fatto di sangue che calamitò l'attenzione nazionale di tutti sono passati esattamente 23 anni. Oggi è il 10 novembre. Non bisogna mai dimenticare il sacrificio di coloro che hanno combattuto con coraggio contro la criminalità organizzata. E' una frase che abbiamo sentito tantissime volte. Se poi con fatti concreti si ricordasse sul serio quanto accaduto sarebbe la normalità. Ma ci permettiamo di sottolineare senza polemica alcuna, Gela oggi non ha fatto nulla per commemorare la figura del commerciante. Né una messa in suffraggio, né un'iniziativa che potesse coinvolgere le parti sociali, le scuole. Nulla di niente. Non tocca a noi dire chi avrebbe dovuto organizzarle, come, quando e dove. Gela è come se avesse dimenticato. Gadano Giordano era uno di noi, un uomo che ha pagato con la vita. E la famiglia, nonostante avesse più di mille ragioni per scappare via dall'inferno di quegli anni, è rimasta in città. La moglie, franca evangelista, ha sempre detto di amare Gela e che non ha mai pensato di andare via. È rimasta in città, dedicando ogni secondo della sua giornata in ricordo del marito. Noi, nel nostro piccolo, lo stiamo ricordando. E risuonano ancora le manifestazioni di condanna per quell'omicidio esternate dai giovani studenti di quell'anno. Giovani studenti che adesso sono diventati uomini e che racconteranno ai loro figli chi era Giordano e perché fu ucciso. Identica cosa, non possiamo dire, per le nuove generazioni. Ecco perché sarebbe stato importantissimo ricordarlo oggi. Sono parole per... è troppo grande per noi la mafia, è troppo grande. Queste sono le nostre armi, speriamo di poterla ce la fare, ma è troppo grande. Quel commerciante aveva il diritto di essere tutelato. È stato forse uno dei pochi che è riuscito a battere il muro dell'omertà. Dobbiamo cambiare, questo è l'inizio di una lotta. Bravo!